Il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento delle strutture pubbliche e private per consentire la piena accessibilità a persone con disabilità è un obiettivo non più differibile. In questa direzione va letta l'iniziativa del centro ortopedico Aliotta di Gela che ha donato due moderne carrozzine ad autospinta che consentiranno ai visitatori con disabilità motorie di visitare il parco archeologico della città nissena. La bellezza, dice l'assessore regionale dei beni culturali dell'identità siciliana Elvira Amata, rappresenta il miglior antidoto contro la sofferenza e uno strumento di integrazione e partecipazione. È importante che il nostro patrimonio artistico e culturale sia accogliente e che tutti possano fruirne. La regione è impegnata sul fronte dell'ammodernamento e dell'adeguamento progressivo delle proprie strutture ma il ruolo dei private a fianco dell'ente pubblico è molto importante, dice, perché contribuisce a rendere più funzionali le strutture e rafforzi al sentimento di collaborazione e di rispetto per i beni pubblici che è alla base di un sano rapporto con le comunità territoriali. Pensiero condiviso da Alessandro Guarnera, amministratore delegato del Centro Ortopedico Aliotta. Lavoriamo per alleviare la sofferenza del corpo e contribuiamo affinché venga alleggerita anche quella dell'anima. Il Centro Aliotta in passato è stato promotore di analoghe iniziative anche in altri luoghi della Sicilia con l'obiettivo di favorire la piena accessibilità dei luoghi della cultura ai soggetti con disabilità.